Questo è il TT Artisan 100 mm f2.8 macro, un obiettivo interamente manuale dal costo di circa 500 euro che non solo ha la particolarità di essere tilt shift o basculante decentrabile per dirla in italiano, ma è anche in grado di arrivare all'interessante rapporto di riproduzione 2 a 1, grazie al quale possiamo ottenere delle fotografie macro estremamente ravvicinate. Ok, ma ravvicinate quanto e cosa vuol dire rapporto di riproduzione 2 a 1? Semplificando al massimo il concetto per farlo capire a tutti, il rapporto di riproduzione o rapporto di ingrandimento di un obiettivo è il rapporto tra la dimensione fisica del soggetto nel mondo reale e la sua immagine proiettata sul sensore. Detta diversamente, se con un obiettivo dal rapporto di riproduzione 1 a 1 fotografiamo un soggetto alto 1 cm, anche l'immagine di questo soggetto proiettata dall'obiettivo sul sensore sarà alta un centimetro. Un centimetro nel mondo reale, un centimetro sul sensore. Con un rapporto 1 a 2 come nel Sony 70-200 f4 Mark II testato un mesetto fa, un centimetro nel mondo reale verrà proiettato su mezzo centimetro sul sensore. Mentre con questo TT Artisan che ha un rapporto di riproduzione 2 a 1, un centimetro nel mondo reale corrisponderà a due centimetri sul sensore, andando di fatto a ingrandire di due volte il nostro soggetto, in maniera concentualmente analoga a quello che fa un microscopio, anche se chiaramente in un microscopio gli ingrandimenti sono decisamente maggiori. Tornando a noi al TT Artisan 100 mm f2.8 macro, come detto si tratta di un obiettivo interamente manuale, costruito completamente in metallo e questo fa sì che il suo peso sia decisamente importante, dato che ferma l'ago della bilancia intorno agli 830 grammi. A me hanno inviato in prova la versione con attacco Sony E, ma ho visto che è disponibile praticamente per ogni attacco possibile e immaginabile, incluso il medio formato Fuji GFX o gli attacchi reflex di Canon oppure Nikon. La qualità costruttiva, se escludiamo il meccanismo tilt-shift di cui vi parlo tra un istante, devo dire che è discreta. L'obiettivo arriva con un tappo in metallo che si monta a incastro e che una volta rimosso rivela una lente frontale sulla quale possiamo montare dei filtri a vite con un diametro di 67 mm. La ghiera per gestire la messa a fuoco manuale è molto grande, ha una zigrinatura che ne facilita la presa ed ha una corsa che secondo me non è né troppo lunga né troppo corta. Tra l'altro guardate quanto si muovono le lenti all'interno del barilotto quando si passa dalla distanza minima di messa a fuoco che è di 25 cm alla distanza massima. Il lato negativo di questa ghiera è che secondo me ha un movimento un pochino troppo contrastato che rende più difficile mettere a fuoco con precisione in particolare alle distanze più ravvicinate dove la profondità di campo è estremamente ridotta. Sulla ghiera dell'apertura invece nulla di particolare da segnalare se non che c'è un bel click tra una posizione e l'altra e a proposito di diaframma vi segnalo che ha un'apertura circolare a 12 lamelle cosa che dovrebbe garantire una buona resa dello sfocato. Quello che invece mi ha convinto meno a livello di costruzione e esperienza d'uso è il meccanismo tilt shift che a mio parere presenta diverse criticità costruttive. Intanto cosa abbastanza fastidiosa ho notato un leggero gioco sul movimento che sinceramente non mi aspettavo al punto che la prima volta che ho montato l'obiettivo sulla camera pensavo quasi che mi si fosse rotto l'attacco dell'obiettivo. Non so se sia solo la mia copia ad avere questo difetto o se sono tutti così tuttavia non potevo non segnalarvelo perché questo problema ha anche alcuni effetti sull'esperienza d'uso di cui vi parlo meglio tra poco. A parte questo un'altra criticità che ho riscontrato è nei vari pomelli non so come altro chiamarli per gestire i movimenti di tilt e shift in particolare quello di blocco e sblocco del basculaggio nella parte destra che almeno nella mia 7.4 finisce troppo vicino al grip rendendo molto scomodo impugnare la fotocamera con l'obiettivo montato. Ma non è solo questo il problema perché sbloccando il movimento di basculaggio che arriva a 8 gradi verso l'alto e verso il basso se non si fa attenzione dato che non ha alcun tipo di resistenza al movimento beh per via della forza di gravità l'obiettivo cade immediatamente verso il basso e se avete la fotocamera magari anche su un treppiede in equilibrio non proprio perfetto beh questo potrebbe sbilanciare tutto l'insieme e far cadere in avanti la camera con tutte le conseguenze del caso. Per sbloccare invece il movimento di decentramento che è fino a 6 mm da un lato e dall'altro bisogna agire su una piccola levetta che una volta montato l'obiettivo sulla fotocamera finisce nella parte inferiore. Complici le dimensioni non proprio generose e la sua posizione è tutt'altro che semplice da azionare. Chiude il discorso il piccolo pulsante che serve a sbloccare il movimento di rotazione dell'obiettivo sul suo asse che io avrei preferito vedere sulla parte sinistra invece qui è nella parte di destra incastrato tra l'obiettivo il corpo macchina e il grip. Se avete delle mani grandi risulta decisamente scomodo da premere. Ah prima che mi dimentichi come forse avrete notato nella parte frontale sono presenti quattro fori filettati. A cosa servono? Beh servono a montare un piccolo accessorio ovviamente incluso nella confezione che altro non è che una slitta a contatto freddo. Idealmente con questo accessorio potreste montare direttamente a ridosso della lente frontale ad esempio un flash per macro fotografia oppure un piccolo pannello led. Attenzione solo che questo accessorio è in plastica al contrario di tutto il resto dell'obiettivo che è in solido metallo. Questo per dirvi che secondo me è meglio non caricarlo troppo. Tuttavia è una soluzione che almeno io non avevo mai visto in un obiettivo macro e che sul campo potrebbe tornare molto comoda. Passando all'esperienza d'uso al netto di questi difetti sulla costruzione che vi ho appena accennato devo dire che l'obiettivo è molto divertente da utilizzare perché almeno a me che non faccio fotografia macro non capita tutti i giorni di scattare dei soggetti così da vicino. Alla distanza minima di messa a fuoco tenete conto che la distanza di lavoro è di circa 9 centimetri tra la lente frontale e il soggetto. I risultati fotografici sono secondo me molto interessanti. Guardate ad esempio questa moneta che nel mondo reale ha una dimensione di circa 2 centimetri. Fotografata a due per rivela tutta una serie di dettagli di segni del tempo che sono altrimenti indistinguibili a occhio nudo. E ovviamente con questo obiettivo non siamo limitati al solo rapporto di riproduzione 2 a 1 perché come scritto molto chiaramente in rosso sulla ghiera di messa a fuoco a una distanza di circa 26 27 centimetri abbiamo un rapporto di riproduzione 1 a 1 che arriva a 1 a 2 salendo alla distanza di messa a fuoco di circa 36 37 centimetri e questo secondo me aumenta ulteriormente la versatilità di questo obiettivo nell'utilizzo macro ma non solo perché se vi accollate il discorso della messa a fuoco manuale la focale di 100 millimetri è molto adatta ad esempio anche per fare fotografia di prodotto foto di ritratto magari fotografia food e grazie al suo diaframma circolare a 12 lamelle la qualità dello sfocato secondo me è molto buona questo già a tutta apertura ma anche andando a chiudere il diaframma ad esempio a f4 o f5 6. obiettivo divertente sì se non avesse come vi ho accennato prima quel gioco sul movimento di tilt shift che unito alla resistenza un pochino troppo importante nella ghiera di messa a fuoco beh rende particolarmente complesso mettere a fuoco in manuale in particolare alla distanza minima di messa a fuoco facendo due conti al volo su una fotocamera full frame come la mia alla distanza minima di messa a fuoco di 26 centimetri e con un'apertura di f 2.8 con questo obiettivo abbiamo una profondità di campo di appena 0,7 millimetri che salgono a ben 2 millimetri chiudendo il diaframma a f8 ecco se già a queste distanze ultra ravvicinate con un 100 millimetri la messa a fuoco in manuale è abbastanza complicata perché anche se mettiamo la fotocamera su un treppiede basta toccare appena l'obiettivo per vedere tutta l'immagine muoversi nel mirino oppure nello schermo figuratevi che cosa succede se ci sono anche dei giochi e un movimento non solido basta un nulla per ritrovarsi con delle immagini fuori fuoco ma in generale è proprio tutto il meccanismo di tilt shift su questo obiettivo che non mi ha convinto appieno al netto di questo discorso del piccolo gioco che potrebbe essere un difetto solo della mia copia comunque il fatto che non abbia alcun tipo di resistenza che quando lo sblocchi l'obiettivo cade velocemente in avanti bello rende estremamente complesso da utilizzare proprio perché la profondità di campo con un 100 mm come detto è estremamente ridotta e quindi alla fine utilizzare questo obiettivo in tilt shift è più la fatica che il gusto ed è un peccato perché avere un meccanismo tilt shift in un obiettivo 100 mm macro come questo e soprattutto in questa fascia di prezzo poteva essere una carta vincente dato che con il tilt shift possiamo in un certo senso giocare con la profondità di campo come vi avevo spiegato nella recensione del suo cugino chiamiamolo così astrori 85 mm tilt peccato doppio perché quando si riesce a mettere a fuoco i risultati sono estremamente validi con una nitidezza alla minima distanza di messa a fuoco che secondo me è buona già tutta apertura al centro un po meno ai bordi e che raggiunge il suo massimo intorno a f5.6 per poi iniziare a calare per via degli effetti della diffrazione che a queste distanze così ravvicinate si fanno sentire molto prima del solito discorso sostanzialmente analogo uscendo dal mondo macro andando a una distanza di lavoro di circa un metro e mezzo dove a tutta apertura abbiamo una nitidezza buona al centro e sufficiente ai bordi con una vignettatura abbastanza pronunciata che migliora chiudendo gli afframma a f4 f5.6 e f8 prima di tornare a calare insomma avrà i suoi difetti dal punto di vista costruttivo e non è una lama da bordo a bordo come altri obiettivi macro più costosi ma tutto sommato la qualità ottica secondo me è più che discreta e più che adeguata al prezzo di vendita che come detto di circa 500 550 euro a seconda dell'attacco e se ci volete dare un'occhiata ve lo lascerò linkato come al solito qua sotto in descrizione se vi interessa scoprire un altro obiettivo interessante e molto particolare vi rimando a questo video con la prova della astrori 50 mm f1.4 tilt e noi ci vediamo alla prossima